Quest'anno ci siamo dedicati molto a Tortoreto perché la location ci piace tantissimo. Io sono tortoretano, ho delle attività commerciali qui a Tortoreto oltre che a Giulianovec. Naturalmente interesseremo anche Martinsicuro dove c'è appunto la sede del nostro club. Che cosa accade? Accade anche il fatto che grazie all'apporto logistico e tutto quello che è servito per organizzare questa cosa noi insieme al comune di Tortoreto di Giulianovec siamo riusciti a organizzare anche quest'anno questo splendido raduno. Sì, ormai è dal 2001 che ho perso mio padre e questa è sempre l'occasione di anno in anno per rinnovare ovviamente la sua memoria. Questi giorni sono giorni abbastanza tristi perché in realtà ho perso sì mio padre e quindi oggi è un giorno dove lo ricordiamo ma in realtà ho perso martedì un socio, un amico che è Paolo Cialini che tutti oggi conosciamo insomma. Quindi sono abbastanza emozionato per due eventi. Raccogliamo un po' sia dalle Marche sia dell'Abruzzo perché dopo di noi nelle Marche la più vicina è a Potenza Picena. in Abruzzo ce n'è un altro ma sta in provincia di Chiedi, a Tessa, quindi diciamo tutta questa zona qui raccogliamo noi. Però voglio, ci tengo a precisare che non è a livello nazionale, è a livello mondiale. Sì, perché la Ferrari stila una classifica e raccoglie, diciamo, tiene in considerazione tutti i club, ma nel mondo però. E quindi lo diciamo perché sicuramente i telespettatori importerà molto. Che posizione ricoprite a livello internazionale? A questo punto a oggi è il quindicesimo.